appunto a mascherare i guai di quello o quell'altro partito, in particolare forse del Partito Democratico. Noi ci presenteremo ai nostri elettori così come siamo e non abbiamo bisogno di nessuna norma. Lo ribadisco, lo ribadisco. Questa legge elettorale è una schifezza che toglie ulteriormente possibilità di scelta, di decisione, di partecipazione per i cittadini che contano ancora di meno. È un pastrocchium, come ha scritto Gramellini sulla prima pagina della stampa. Stanno tirando in ballo sto salvalega alla settimana senza che la Lega l'abbia chiesto e lo voglia. Quindi se la stanno suonando e cantando da soli sono altre onestamente le mie preoccupazioni. Oggi dovrebbe andare in discussione alla Camera la mozione che chiede l'esenzione fiscale per chi ha subito l'alluvione o il terremoto e questo è un voto che mi interessa, anche perché una legge elettorale che vale solo alla Camera e non al Senato la dovevano ancora inventare. Quindi non so se su Marte o su Saturno sono stati così abili e così brillanti, però la discussione sulla legge elettorale non mi appassiona. Non ci sono le preferenze, non c'è il contatto con i cittadini. Io sono qua a Strasburgo dove sono appena intervenuto sull'euro che è il vero dramma, non la legge elettorale, ma con le preferenze. I cittadini di Torino, di Milano, di Genova hanno potuto scegliere. Questa è una legge elettorale che peggiora dal mio punto di vista, se possibile, la legge elettorale che c'era prima in vigore. Quindi speriamo che sia finita, perché è tre mesi che andiamo avanti questa menata della legge elettorale. Ripeto, ci sono questioni fiscali, economiche, europee molto più urgenti che non il pastrocchium.